Oggi è una giornata che ricorderete perché vi cambia la vita, vi cambia il mondo. Giurare fedeltà alla Repubblica non è una passeggiata. C'è un solo modo per farlo, con lealtà, onore, sacrificio, amor di patria. Ed è per questo motivo che a voi vi era chiesto sempre di dare il massimo. Nessuno vi ha chiesto di essere qui, lo avete scelto, lo avete deciso. Siete voi che avete scelto di servire il vostro Paese. E lo si può fare in un solo modo. E credetemi, se vi dicessi che si prospetta una vita tutta in discesa, mentirei sapendo di farlo. E allora inevitabilmente vi dico che ci saranno sicuramente delle difficoltà. Sarete costretti a prendere delle decisioni importanti, decisive, che potrebbero anche cambiare la vostra vita. Ma come dico sempre, da trent'anni a questa parte, per chi decide di indossare l'uniforme, non fa differenza se si va in giro in carrozzina o con le proprie gambe. Ciò che conta è farlo a testa alta, con la consapevolezza di aver fatto il proprio dovere fino in fondo. O almeno di averci provato. Anche perché si può e si deve sempre dare di più. Ma io sono convinto, guardandovi negli occhi, che non diluderete le aspettative che il Paese ha nei vostri confronti. Ed è per questo motivo che a nome del gruppo Medelmi Taglie d'Oro, io vi dico grazie per quello che farete, ma soprattutto per come lo farete. In bocca al lupo. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con discipline d'onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Allievi marescialli del 94esimo corso do De Canneso II, lo giurate voi? Natura! Grazie! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.